era una fredda e nevosa notte di capodanno la gente passava con i suoi cappotti caldi i guanti, le sciarpe ed avevano tutti fretta di andare da qualche parte qualcuno era in ritardo e correva per tornare a casa altri andavano ad incontrarsi per festeggiare il nuovo anno i bambini correvano in strada lanciandosi palle di neve naturalmente erano quelli che più si divertivano con la neve giocavano fra di loro e ridevano di gusto ma sulla strada c'era una bambina diversa da quelli che giocavano la piccola se ne stava in mezzo alla strada guardando gli altri bambini giocare non aveva un cappello per proteggersi dal freddo come gli altri i suoi visiti erano leggeri e strappati e le ciabatte ai suoi piedi erano troppo grandi per lei teneva una scatola fra le mani e tremando dal freddo la piccola bambina notò una macchina a venire verso di lei ehi bambina stai al lato della strada o verrai vestita la bambina corse subito sul marciapiede ma mentre correva le ciabatte troppo grandi le scivolarono via quando fu sul marciapiede si girò a guardare vide un ragazzo correre con le sue ciabatte le mie ciabatte! gridò e corse dietro al ragazzo ma lui era troppo veloce ehi! ferma! non avendo altra scelta camminò scalza e cercò un rifugio vicino al muro aprì la scatola che teneva stretta e la mise giù guardava la scatola piena di fiammiferi con gli occhi umidi dal freddo lei era la piccola fiammiferaia ma non era riuscita a vendere nemmeno una scatola di fiammiferi quel giorno se fossi riuscita a vendere, a guadagnare qualcosa avrebbe potuto andare a casa ed avere almeno una scodella di zuppa calda con sua madre così iniziò a gridare con la sua sottile e tremante voce dal freddo e dalla tristezza fiammiferi! qualcuno vuole dei fiammiferi! fiammiferi! ma nessuno per strada le prestò attenzione così si sedette vicino al muro le sue dita iniziarono a farle male dal freddo non riusciva più a sopportare il dolore in qualche modo doveva riscaldarsi aprì la scatola e tirò fuori un fiammifero le sue dita erano insensibili e riusciva a malapena a tenere un fiammifero con mani tremanti storniò il fiammifero sul muro e improvvisamente una calda luce arancione la circondò la povera bambina passava il fiammifero da una mano all'altra per riscaldarsi le dita le sue mani non erano più fredde si ritrovò di fronte ad una calda stufa fissava il fuoco ed iniziò a sognare era seduta di fronte ad una grande stufa in una bellissima stanza aveva un maglione di lana addosso, stivali caldi ai piedi e un cappellino sulla testa era così caldo che iniziò a sudare ma improvvisamente il fiammifero si spense senza fiammifero anche quei dolci sogni svanirono le sue piccole dita cominciarono a congelarsi di nuovo e a farle male così accese un altro fiammifero in quel momento un vento gelido soffiò la bambina si girò verso il muro per tenere acceso il fiammifero e coprì la fiamma con le sue mani mentre lo guardava il muro improvvisamente svanì e si aprì c'era una grande stanza dentro sopra ad un tavolo erano disposti tutti i tipi di cibo su una tovaglia bianca ed il candelabro d'argento sul tavolo illuminava la stanza come fosse giorno fissò al tavolo e vide che proprio nel mezzo c'era una bellissima bistecca gregliata immediatamente ne brise un pezzo e lo mise in bocca subito non si sentì più affamata la piccola fiammiferaia voleva prendere un altro pezzo di carne ci provò ma il fiammifero che teneva in mano si esori molto velocemente la povera bambina si bruciò e lanciò via il fiammifero non appena gettò il fiammifero il banchetto e la stanza sparirono e il muro reapparve la piccola fiammiferaia accese un altro fiammifero si ritrovò in un sogno ancora più grande sedeva sotto un albero durante una notte d'estate e guardava le stelle faceva ancora caldo nonostante fosse notte la bambina non riusciva a staccare gli occhi dalle stelle non aveva mai visto il cielo e le stelle così luminosi poi tutto a un tratto vide una stella cadente pensò fra sé e se ecco uno di noi che vola nell'eternità in realtà queste erano le parole di sua nonna in quel momento infatti sua nonna parte quando vedi una stella cadente sappi che qualcuno prenderà il suo posto tesoro mio la nonna fu visibile solo per un breve momento e quando sparì la piccola fiammiferaia la chiamò nonna ferma ti prego non andare ti prego mi manchi tanto per poter vedere la nonna ancora una volta accese un altro fiammifero dimenticò di quanto faceva freddo in mezzo alla strada e iniziò a sognare ancora ogni volta che accendeva un fiammifero si sentiva come se potesse vedere sua nonna e sentire la sua voce la bambina accese un altro fiammifero intorno a lei tutto si illuminò come fosse giorno non aveva mai visto sua nonna così bella il suo dolce viso le fece dimenticare tutto il freddo e i giorni duri che aveva dovuto affrontare non voleva che questo momento finisse così accese in fretta l'ultimo fiammifero sua nonna apparve ancora una volta di fronte a lei allungò le braccia per stringere la mano della piccola fiammiferaia e iniziarono a volare in alto nel cielo insieme la bambina sentì un grande sollievo non c'erano più il freddo e la fame in quel momento si vide un'altra stella cadente al mattino la gente che passava di lì vedeva la piccola fiammiferaia distesa a terra vicino al muro i suoi occhi erano chiusi ma un dolce sorriso appariva sul suo viso c'erano un sacco di fiammiferi bruciati attorno a lei i fiammiferi che con le loro fiamme avevano reso reali i suoi sogni sogni che nessun altro avrebbe mai potuto sognare c'era una volta in una terra lontana un principe è raggiunto il momento per il principe di trovare moglie ma sfortunatamente non aveva ancora trovato la sua principessa per poterla trovare infatti il principe aveva viaggiato in tutto il mondo tutte le principesse dei regni vicini avevano visitato il castello per incontrare il principe ma per il principe era difficile trovare quella giusta suo padre il re voleva che sposasse una vera principessa dopo aver tentato per così tanti anni aveva quasi perso le speranze triste e molto pensieroso il principe continuava a vivere la sua vita il re e la regina invece erano molto preoccupati per la sua situazione un'altra triste notte mentre stava seduto a pensare cominciò una grande tempesta pioveva abbondantemente c'erano lampi e saette il suono dei tuoni eccheggiava nel castello il principe non riusciva a dormire e guardava i fulmini fuori dalla finestra d'altro canto non riusciva a fare a meno di pensare alla sua futura principessa nonostante il frastuono nel castello una dei servitori sentì che stavano bussando alla porta aprì la porta e notò una giovane ragazza tremante e tutta zuppa di pioggia nonostante le sue condizioni la povera ragazza era davvero molto bella ed elegante con grande difficoltà parlò mi lascereste entrare per favore sono sola e mi sono persa nella foresta la servera dispiaciuta per lei così corse a dare la notizia al re e alla regina non possiamo rifiutare di accogliere un visitatore a quest'ora di notte fatela entrare il re informò subito le guardie della situazione e gli diede degli ordini le guardie fecero entrare la ragazza nella sala del castello e la fecero sistemare davanti al caminetto vedendo i vestiti della ragazza a zuppi di acqua la regina ordinò ai servi di portare dei vestiti appropriati per la ragazza quando furono da sore la regina le chiese a quest'ora e con questo tempo mi domando davvero che cosa tu stia cercando sono la principessa di una terra lontana il mio castello è stato attaccato dai miei nemici per proteggermi mia madre e mio padre mi hanno segretamente mandata via con due soldati ma a mezzanotte a causa della tempesta ci siamo persi ed eccomi qui ho trovato il vostro castello grazie mille per avermi accolta la regina faceva fatica a crederle ma allo stesso modo trovava ancora più difficile mandarla via dal castello il principe era curioso di vedere chi fosse questa ragazza misteriosa voleva incontrarla a quel punto la ragazza aveva indossato il vestito che le aveva dato la regina i suoi capelli si erano asciugati e lei si sentiva di più come se stessa ora sembrava molto più bella ed elegante quando il principe entrò nella stanza non riusciva a credere a tanta bellezza ed eleganza e fu ammaliato dalla sua presenza ma voleva essere davvero sicuro che fosse una vera principessa la regina disse al re che avrebbe risolto la situazione e avrebbe scoperto se era una vera principessa se è davvero una principessa lo scopriremo questa notte il principe e la principessa chiacchierarono per tutta la notte il principe che era così affascinato da lei voleva conoscerla meglio la regina preparò la stanza degli ospiti per la giovane ragazza e mise un pisello sotto al suo letto coprendolo con sette materassi la giovane donna dormì nello strano letto che era stato preparato per lei quella notte il giorno dopo la regina aspettò che la giovane si svegliasse e quando arrivò le chiese hai dormito bene questa notte? sono molto felice che mi abbiate dato rifugio ma a dire il vero ho avuto qualche difficoltà a dormire questa notte oh davvero? e potrei chiederti come mai? mi fa male il corpo la mia schiena è a pezzi è come se tutta la notte avessi dormito su qualcosa come un masso questa era esattamente la risposta che la regina si aspettava sapeva che solo una principessa avrebbe potuto sentire tale fastidio attraverso un letto con sette materassi andò dal principe e gli raccontò tutto quello che era successo sentendo ciò e sapendo che quindi era una vera principessa il principe non poteva trattenere la sua felicità disse al re che voleva sposare la principessa e così il re accettò la sua proposta il principe chiese alla principessa di restare nel suo castello qualche giorno in più finché la guerra nel suo regno non fosse finita addirittura mandò le sue truppe per aiutarla a salvare la sua terra e poco tempo dopo il principe fece la proposta alla principessa principessa non appena lei rispose di sì vissero per sempre felici e contenti quella notte il principe fece mettere il pisello in una scatola di vetro e lo espose nell'angolo più bello del castello per molti anni il castello ed il pisello furono visitati da tante persone che credevano nel vero amore la storia del principe e della principessa fu raccontata per molti e molti anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti